Luca Argentero e Kayaman si troveranno insieme sul set di Sandokan, intanto sono entrambi in Salento, a pochi chilometri di distanza l'uno dall'altro. L'attore di origini turche, noto anche per la storia d'amore con Diletta Leotta, che secondo alcune voci sarebbe agli sgoccioli, si è diviso tra Gallipoli, Otranto e Porto Cesareo. Diletta è in Sardegna e le foto fanno il giro del web e delle riviste scandalistiche in pochi minuti. A Gallipoli, in un noto hotel sul mare, c'è anche Luca Argentero, in spiaggia è stato letteralmente preso d'assalto dai fan, da chi voleva un selfie, un autografo, un ricordo, vacanza con il mare, tanto relax e su Instagram un paio di scatti, per testimoniarlo. Ma in vacanza, in Salento, a Porto Cesareo c'è anche Antonio Conte, che dopo un soggiorno in Ibiza con Andrea Pirlo, entrambi senza panchina al momento, ha scelto prima il barese con Monopoli, poi il suo Salento, dove è nato e cresciuto, aspettando magari un'altra chiamata, ma per ora tanto vale rilassarsi e il Salento sì, è il posto giusto, un po' per tutti, attori, ex calciatori e allenatori.